La sicurezza del paziente nella terapia farmacologica, quando e come assumere i farmaci, il rischio dell'autoprescrizione, la conservazione e l'aderenza alla terapia. Il tema al centro dell'incontro, aperto alla cittadinanza in programma venerdì 16 settembre alle 21 Palazzo delle Paure. L'evento organizzato da SST Lecco in collaborazione con gli ordini professionali, medici, infermieri, farmacisti, perché la correttezza della terapia farmacologica è un gioco di squadra. Il 17 settembre è la giornata che l'OMS ha identificato come la giornata della sicurezza del paziente. Quest'anno il tema è quello farmacologico e Ministero e Regione Lombardia hanno invitato le aziende sanitarie a rendersi proattive su questa tematica. Ci saranno due convegni, uno in ospedale riservato giovedì sera a tutto il personale sanitario, uno invece a Palazzo delle Paure, aperto al pubblico, che si svolgerà venerdì sera, proprio per informare e formare la cittadinanza sul corretto utilizzo dei farmaci. Medication without harm, cioè terapia senza rischi, senza danni. È importantissimo soprattutto nell'automedicazione, che colpisce alcune categorie, in modo particolare gli antinfiammatori o antidolorifici, gli psicofarmaci e gli antibiotici. È importante conoscere, diventare proattivi e preparati in questo percorso per tutti i cittadini e soprattutto per l'ambiente sanitario.